Il mio colore preferito è l'azzurro, il blu, il rosa, la rosa, il giallo, il verde chiaro, è l'azzurro e il lilla, il rosso. Invece il mio colore preferito è il bianco perché può diventare qualsiasi colore. L'idea del nostro murales nasce dalla volontà di far conoscere ai genitori ma anche ai docenti delle altre classi e ai compagni di questa scuola qual era stato il nostro percorso in educazione finanziaria unito all'arte. Molto interessante per me partecipare a questo progetto intanto perché è la prima volta che mi capita di essere nella giuria della selezione di un progetto realizzato dai bambini e dalle bambine qui all'Istituto Comprensivo di Nerviano di conoscere la classe quinta B e lavorare poi insieme a loro alla realizzazione del loro disegno. Maggiormente potesse coniugare arte e finanza attraverso le immagini a semplificare e a rendere comprensibili un po' a tutti e tutte concetti complessi come tutti gli aspetti che ruotano intorno al mondo finanziario. Per questo progetto ringraziamo Biperbanca e Libri Educativi. Attraverso l'arte si può educare anche all'economia.